Veneziano di nascita, trevigiano d'adozione, il professor Francesco Leoncini, già docente di storia dell'Europa orientale a Ca' Foscari, non è affatto meravigliato della crisi ucraina, risultato dice, in sostanza, del mancato allargamento dell'Europa alla Russia. La Nato in qualche modo è avanzata verso est, in forme diverse eccetera, però il fatto di Varsavia a suo tempo si è sciolto insomma con Gorbaciov. Credo che bisogna riprendere l'idea di un'Europa dall'Atlantico agli Urali, di inserire la Russia in qualche modo nel contesto europeo. Poi noi abbiamo avuto questa idea felice di spingere la Russia nelle braccia della Cina. Si è creato questo legame molto stretto con la Cina. Ora, gli russi non avevano nessuna voglia di mettersi con la Cina, di stare con la Cina, perché hanno avuto un'occupazione mongola di due secoli e mezzo e si sono liberati con molta difficoltà. La Russia e Europa ha tutti gli effetti. Dal secondo dopoguerra ci sono stati molti momenti in cui si è pensato di frenare il progressivo avvicinamento della Nato verso la Russia senza trovare però un accordo. Secondo me bisogna in qualche modo limitare progressivamente l'impegno della Nato in Europa, cioè effettivamente decostruire direi, decostruire la Nato, che era l'idea poi, guardate che era l'idea di De Gaulle. In questo modo, secondo Leoncini, l'Europa potrebbe davvero giocare un ruolo di primo piano tra gli Stati Uniti da una parte e la Cina dall'altra, ma l'urgenza ora è data dal rischio di un conflitto su vasta scala. Se la rigidità di entrambe le parti rimane quella che è, si va in qualche modo a uno scontro. Ora qui l'Europa sì deve giocare un ruolo molto rilevante, ma ci vorrebbero appunto dei leader politici di alto livello, come li abbiamo avuti nel passato. Penso appunto a Mitterrand, penso a De Gaulle, penso a Kohl, c'era Angela Merkel che effettivamente in questo momento avrebbe potuto giocare un ruolo, anche perché lei veniva dallo stesso mondo di Putin, diciamo in parole, veniva dalla DDR, veniva dal blocco sovietico. Secondo me forse andrebbe richiamata in servizio Angela Merkel e forse questa sarebbe una delle possibili soluzioni.